Grande successo di pubblico e critica per lo spettacolo della regista e coreografa Marina Rulli andato in scena a Spoleto lo scorso weekend, uno spettacolo che vuole far vivere e conoscere il teatro agli adulti e ai bambini portando in scena artisti che sono sia attori che circensi. Le loro performance spaziano dai tessuti aerei al cerchio appeso alle arti di strada e persino parkour. L'unica voce narrante è un viaggiatore che porta lo spettatore in giro per la fantasia e il tempo incontrando sia personaggi del passato sia della fantasia, il tutto con le arti in primo piano essendo il piano scenico preso solo da quattro pannelli dove video e sfondi sembrano dipinti. Dentro lo spettacolo tanti momenti di pura emozione ricreati anche con un bellissimo gioco di luci. Gli spettatori vengono coinvolti con le attrici che utilizzano anche il linguaggio dei segni nell'ottica di andare sempre oltre il limite del visibile con educazione e inclusione. Ora l'augurio è di rivedere presto lo spettacolo in giro per i teatri dell'Umbra e in quelli della penisola. L'unico modo per ottenere l'impossibile è pensare che sia possibile!